back to heart biogas italy 2018 roma siamo in compagnia del dottor angelo baronchelli di ab dottor baronchelli voi vi occupate di tutto ma proprio tutto ciò che c'è a valle del digestore per quanto riguarda il biogas ci descrive che cosa succede a valle del digestore e che cosa fate diciamo che a valle del digestore noi viene prodotto un gas questo gas ha delle determinate caratteristiche non sempre ideali quindi questo gas va trattato va reso compatibile con processi complessi come quella della combustione in un motore da qui produciamo energia elettrica ad alta efficienza e produciamo anche calore quindi il tema della cogenerazione applicato in ambito biogas è proprio questo abbiamo un combustibile ha un potere calorico questo potere calorico lo dobbiamo trasformare in qualcosa che si possa utilizzare e quindi questo è quello che fa ab fornendo ai clienti un servizio che parte dalla progettazione di questi impianti alla realizzazione e poi alla manutenzione in tutta la vita utile appunto degli impianti per tutto quello che è stato fornito quindi ci siamo posizionati come partner delle aziende agricole in questo caso che realizzano questi investimenti tecnologiche che evidentemente sono complessi e richiedono delle capacità trasversali proprio di essere gestiti in modo efficiente. Ecco dottor Baronchelli voi avete al vostro attivo centinaia di impianti avete portato una tecnologia che è una tecnologia tutta italiana in giro per il mondo e avete fatto anche centinaia di assunzioni si direbbe che il segmento che coprite sia un segmento di successo quale visione avete rispetto al futuro di questo segmento e su che cosa state investendo? Partiamo da oggi da quello che stiamo discutendo oggi come si può capire l'Italia l'Europa direi Germania Italia in particolare e l'Europa in generale comunque sono stati quelli che hanno sviluppato queste tecnologie ma il mondo è grandissimo queste tecnologie in giro per il mondo voglio dire non le conoscono ma cominciano comunque oggi grazie anche alla comunicazione veloce a capire che non possono fare a meno di questo quindi ABIC cosa ha fatto? Ha sviluppato un concetto come dicevo prima noi siamo i partner dei nostri clienti quindi dobbiamo dare servizi e prodotti di altissima qualità tutto questo lo stiamo esportando in tutto il mondo direi con successo perché poi alla fine il mondo tutto il mondo vuole solo una cosa vuole avere un interlocutore serio con cui costruire il proprio futuro e quindi da tutte le Americhe quindi siamo in Sud e Nord America la Russia stiamo esportando questa tecnologia e quindi stiamo portando le capacità italiane la flessibilità del popolo italiano e quindi anche voglio dire il prestigio di poter essere come dicevo poter dare un contributo all'applicazione di quella che è una tecnologia che come ripeto vediamo oggi in futuro abbraccerà tutte le necessità e comunque voglio dire verrà abbracciata da chi vuole evolvere in ambito sia agricolo ma in ambito tecnologico. Bene grazie dottor Baronchelli da Biogas Italy Roma Sergio Ferraris Grazie a tutti